tesi a fare le tesi e ecc le arp sono sulle arp è che è grosso le devi fare chi l'eserci fuori dall'arp l'arp è il tutto del tempo si un po' di peso c'è un po' di carnet come da tutti spesiata come una nuova cosa va bene è chiaro che in un'area piccola fanno un nuovo portiere magari se poi gli allottieri a pallonbella se poi gli allottieri a pallonbella non è mai una pallonbella a pallonbella in un'area non è mai ma non è mai tutto questo è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.